Un Pescara commovente non ce la fa trascinare la serie a gara 5. I rigori sono ancora una volta fatali e lo scudetto va alla Luparense che con il sesto tricolore conquistato diventa la squadra con più titoli italiani in bacheca. Ci ha provato la squadra di Colini ad andare oltre le poche energie rimaste e si è aggrappata con le unghie e con i denti ad una gara che l'ha vista sempre sotto. C'era la volontà di non deludere le migliaia di pescaresi che hanno raggiunto il palaestra di Ancona grazie a treno e pullman messi a disposizione dal Pescara Calcio a 5 ma anche attraverso mezzi privati. Un vero e proprio esodo mai visto per una gara di futsal. Stringono ancora i denti Leggero e Salas che Colini impiegherà in una partita che vede iniziare meglio la Luparense che a quinto passa in vantaggio grazie ad Onorio. Con Bertoni recuperato e Ramon al posto dell'acciaccato Mancuso i Lupi raddoppiano con il contropiede finalizzato data borda su assist di Ramon. Pescara alle corde ma che reagisce prima dell'intervallo con la sassata di Cimanghigno che dimezza il distacco. La partita si fa ancora più avvincente nella ripresa con gli ospiti che non la chiudono neanche quando il Pescara perde Cimanghigno espulso per sommagli ammunizioni. Ultimi tre minuti al cardiopalma, Mati Rosa indovina il tiro del 2-2. Dopo 30 secondi Ramon, portiere di movimento, sorprende Capuozzo. Sembra fatta ma a 9 secondi dalla fine Pescara si rialza ancora con la correzione di Giacomo Azzoni su tiro cross di Salas. 3-3 e si va ai rigori ma il Pescara non ne ha più. Segna Morgado, sbagliano Salas e Cuzzolino. Ai Lupi bastano due rigori di Foglia e Coco Wellington. Scudetto alla squadra di Marin ma applausi convinti per questo Pescara, col rammarico però che senza quel finale burrascoso di gara 1 la Serie avrebbe avuto probabilmente un altro epilogo. Peccato davvero.